Fine vita ed eutanasia, un argomento di cui se ne è discusso spesso in Italia, soprattutto dopo il caso di DJ Fabbo, malato terminale che ha deciso di andare a Svizzera per porre fine alle sue sofferenze. La legge approvata alla Camera adesso attende di approdare al Senato. Intanto ieri ne hanno discusso in un convegno denominato Legge sul fine vita, vincita o sconfitta, tenutosi alla biblioteca comunale di Giuliano, tra politica, chiesa e medici. Io credo che sia un passo avanti che per certi versi è stato fatto con l'approvazione della legge alla Camera che adesso va al Senato. Personalmente mi sarei augurato in alcuni punti che questa legge avesse degli aspetti diversi, però sicuramente tratta temi di cui oggi il Paese ne ha bisogno. Mi riferisco alla legislazione sul consenso informato, il rapporto tra il medico e il paziente che deve essere normato necessariamente. Mi riferisco al ruolo del medico di fronte al paziente che è in fine vita, che in questa legge in un primo momento vedeva con scarsa attenzione ma che finalmente è stato rivalutato. La legge poteva essere scritta meglio, mi auguro che al Senato colga alcune modifiche e in questa maniera potremmo avere una legge che può servire a questo Paese. Un tema delicato che è quello del fine vita, di una fine dignitosa ma contemporaneamente del rispetto della sacralità della vita, un tema su cui io non ho tranquillizzanti certezze e invidio chi ce l'ha e che rimanda alla coscienza del singolo, ma con provvedimenti legislativi chiesti da anni e polemiche che non si attenuano, come tutti quelli che sono i temi etici. Questo è un incontro per salvaguardare la vita e la Chiesa ha tutto il suo interesse nel rispetto del Vangelo e degli insegnamenti cristiani e soprattutto della morale cristiana a difendere la vita. Credo che molti aspetti di questa legge e molte polemiche che sono suscitate tra le varie parti politiche potrebbero essere, diciamo, mitigate da una sana riflessione effettivamente su questi temi.